Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Il Grande Fratello si prepara per l'edizione 2024 con una nuova casa spettacolare. Alfonso Signorini ha svelato in anteprima le prime immagini di questo nuovo scenario che accoglierà una serie di VIP e NIP. Il debutto è previsto per lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5. con Alfonso Signorini confermato come conduttore e Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste. La casa del Grande Fratello si presenta come una novità straordinaria, con un giardino molto più ampio rispetto agli anni precedenti. Signorini ha mostrato entusiasta la struttura ancora in costruzione, definendola enorme e grandissima, promettendo un'esperienza unica per i concorrenti e il pubblico. Le immagini della nuova casa hanno suscitato grande curiosità e attesa tra i fan del reality show più seguito in Italia. Per scoprire ulteriori dettagli e novità sarà necessario seguire i canali social ufficiali del Grande Fratello, che promettono di svelare ulteriori sorprese. Con una presentazione in anteprima su Pomeriggio 5 e sui social ufficiali del programma, Alfonso Signorini ha creato grande aspettativa per questa nuova edizione. La casa del Grande Fratello si preannuncia come un luogo straordinario e ricco di sorprese, pronto ad accogliere i concorrenti per una sfida emozionante e avvincente.